Il Comizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di Il Comizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento. In più servizi e rubriche sui comuni problemi legali. Le risposte dei nostri avvocati. Un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina. Eventi e stili di vita, società e professioni. Il Comizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Ben ritrovati con Il Comizio.it. Oggi abbiamo una graditissima ospite, Francesca Agnati, volto televisivo, conduttrice televisiva ed esperta del mondo social e influencer. Esatto. Di questo vogliamo parlare oggi. Un mondo sicuramente molto interessante, affascinante. oggi se ne parla tantissimo. Però c'è una larga fascia di utenti, telespettatori, anche persone che frequentano i social e internet che non hanno le idee chiarissime su questo mondo. Quindi ti chiediamo una grande mano da questo punto di vista. Innanzitutto, come sei entrata in contatto, diciamo, con questo tipo di ambiente di mondo? Allora, innanzitutto grazie per avermi invitata, grazie mille. Io sono entrata in contatto con questo mondo in realtà perché pochissimo tempo fa, perché è partito tutto a luglio 2020, data la quarantena, eccetera, io ho deciso un po' di cambiare vita. Ho detto, io voglio svoltare, voglio fare qualcosa di diverso. Avevo già alle spalle una laurea triennale in comunicazione, quindi comunque ero già più o meno inserita in questo mondo, però da lì ho detto, ok, voglio fare radio. Inizio a fare radio, una web radio, e poi da subito, praticamente agosto-settembre, mi chiamano in televisione. Inizio a fare la co-conduttrice, quindi mondo che io amavo da tutta la vita, io volevo assolutamente entrarci, fino a che poi arrivo in questo nuovo canale televisivo a gennaio 2021 e divento praticamente conduttrice di questo programma che decido io, quindi mi scrivo la scaletta, faccio tutto da sola, che ho deciso di chiamare Go Influencer. Perché? Perché qua entriamo all'interno di quello che è tutto il mondo social e di quello che sta un po' cambiando nel mondo. Perché questi social stanno diventando uno strumento potentissimo. Io credo di essere arrivati proprio, diciamo, all'apice di quello che è il potere di questi social media e ci sono delle persone che stanno facendo del vero e proprio business. Perché? Perché l'azienda adesso, quella che vuole farsi conoscere, tempo fa c'era il passaparola, poi c'era la pubblicità in televisione, eccetera, eccetera, ad oggi cosa fa l'azienda? L'azienda chiama dei volti che sa essere molto forti all'interno dei social, che hanno magari 50.000, 60.000, 100.000 visualizzazioni a storiella, quindi è una cosa assurda, e dice, guarda, io ti do dei soldi e tu mi sponsorizzi il prodotto, l'azienda o quello che l'è. È chiaro che poi più l'azienda è forte, più l'azienda è già conosciuta, più può andare a chiamare un influencer del calibro, non dico di Chiara Ferragni, ma siamo lì. L'azienda un po' più piccolina magari chiama quelle che hanno 20, 30, 40.000 follower. Questo è un po'. E quindi ho deciso di intervistare queste ragazze anche per capire che tipo di vita fanno. Certo, è molto interessante questa cosa. Ma mi collego a una cosa che stavi dicendo tu, quindi il livello Ferragni e altre fasce numeriche, di follower e di importanza anche commerciale. Di che numeri parliamo? C'è una stima di quanti sono gli influencer che contano qualcosa? Allora, Chiara Ferragni è ad oggi il top, cioè proprio in Italia, anzi nel mondo, è una delle più conosciute. Lei se non sbaglio siamo sui 24 milioni di follower, sì è una cosa assurda. Non vorrei dire una cavolata, ma più o meno si 24-25 milioni. Ci sono, diciamo, quelli medi, che se prendiamo Chiara Ferragni, sono quelli che ne hanno sui 5 milioni, una di Letta Leotta, ti faccio un esempio, lei siamo sui 4-5, una Giulia Delellis, fortissima adesso, 4,5 milioni. Quindi numeri veramente assurdi. E poi si va invece dalle fasce, diciamo, un po' più piccoline, 30, 40, 50 mila, che però riescono a farne un business anche loro. Se andiamo ancora un pochino più in basso, troviamo anche quelli da 3 mila, 4 mila, 5 mila, però magari l'azienda del paese, che comunque ha bisogno magari di essere conosciuta all'interno del paese, chiede magari a loro una sponsorizzazione, regalano i loro prodotti e loro fanno la stessa cosa. Però c'è un mondo dietro a questa cosa, c'è un mondo infinito. Poi dopo cercheremo di sviscerarlo, questo mondo. Dicevi, Chiara Ferragni, di Letta Leotta, Delellis, ma comandano le donne? Allora, secondo me, ad oggi, no, non voglio dire che comandano le donne, però sembrano essere più forti, magari anche per l'immagine, non lo so. Cioè, anche gli utenti, i follower, sono equamente divisi? No, no, ecco, no, 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 quello dipende. Cioè, ti faccio il mio esempio che ti posso portare il mio, no? Io, avendo fatto dei programmi di calcio, di motori, o comunque sempre legati al mondo dello sport, ho tipo una percentuale di 84% di uomini. Ecco. Ma credo anche una come la di Letta Leotta. Immagino di sì, però volevo sentirlo dire da te che sei più esperta. Però, diciamo che il meccanismo, diciamo, anche estetico e la ricerca di una determinata immagine da parte di una determinata platea è ancora regge. Ancora regge, questo funziona ancora. Funziona ancora così. Ecco, bene. Senti, no, dicevi, le dinamiche professionali di questo mondo. Parlavamo degli attori proprio tecnici di questo tipo di ambiente e di business. Quindi ci sono delle agenzie, ci sono degli agenti, dei procuratori di affari, ci sono degli organismi specializzati. Come funziona? Ci sono delle agenzie, ci sono degli agenti. Le agenzie contattano questi influencer o l'influencer stesso contatta l'agenzia o un agente in particolare, se magari ha già delle conoscenze. A quel punto l'agenzia barra l'agente fa di tutto per trovare delle collaborazioni in linea con gli influencer che la gente segue. Quindi, l'esempio, adesso io devo fare una sponsorizzazione su delle cuffie di una Playstation per giocare a FIFA. Questa persona che mi sta dando una mano, che non è un mio agente, però la gente fa la stessa cosa sostanzialmente, ha dato il mio nome a questa azienda. Ha detto, andate a vedere. Loro vanno a vedere l'agenzia insieme all'azienda, vanno a vedere i dati insights, quindi praticamente l'engagement rate tra quelli che sono i like, i commenti e il numero di follower della persona. Ti viene fuori un numero. Se questo numero è alto, vuol dire che i follower sono reali, perché poi c'è anche questo problema. Cioè, si possono comprare i follower. Adesso ci sono tutti questi metodi, tra cui Ninjalytics, che è anzi quello molto utilizzato da tutti sostanzialmente, e tu da lì vedi se questi follower sono reali o meno. L'agenzia insieme all'azienda dice, ok, io voglio quella influencer lì. L'agente va dall'influencer e dice, ti ho trovato questo. Ti piace? Sì? No? Bam. E inizia. Bene, ma c'è un qualche organismo specializzato, una qualche agenzia che costruisce l'influencer, cioè io ho già una mia notorietà, faccio già delle cose nei vari campi professionali, vado da un'agenzia e dico, io vorrei diventare un influencer, vorrei aumentare il mio consenso social, e anche eventualmente, perché male non fa, aumentare il mio business. Allora, io ad oggi non credo che ci sia un qualcosa del genere, però so, perché ho cercato proprio l'altro giorno per mia curiosità, so che esistono dei corsi, non so quanto siano validi, non so nulla. Corsi laurea che ho sentito parlare. Esatto, ecco, hanno creato proprio queste triennali, questi corsi o queste specializzazioni nel diventare influencer. Poi quello, non so quanto possa veramente poi servire, non ne ho idea, anche perché l'influencer non si crea dal nulla, no? L'influencer si crea perché tu sei il simbolo di qualcosa. No, 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 chiaramente, infatti la mia domanda era proprio su questo. Io sono già qualcuno nel mondo dello sport, nel mondo dello spettacolo, eccetera, però voglio diventare influencer, e allora mi immaginavo che dietro ci potesse essere anche un lavoro proprio di costruzione dell'immagine social in termini esponenziali, ecco. Insomma, è bello questo mondo qua, ma dal punto di vista umano che cosa ti dà, che cosa ti racconta? Allora, in realtà io non nasco come influencer, quindi ci sono entrate, adesso ho qualche mia collaborazione, però il mio lavoro è un altro, ma intervistando gli influencer io vedo, ne vedo praticamente tre alla settimana, forti, anche un milione, un milione e mezzo, e ci parlo ovviamente perché li devo intervistare. Allora, io vedo che loro, è un po' complicata questa situazione, nel senso che alcuni vivono di quello e c'è anche un po' questo velo di superficialità all'interno della loro vita e loro lo dicono, cioè ci sono degli influencer che dicono io mi sveglio la mattina, faccio due storie e ho guadagnato duemila euro. Non fai niente, alla fine. Sarà un sacco di gente che penserà a loro in un certo modo. Esatto, non hai idea di quanti insulti queste persone ricevono, però vabbè, loro continuano così e stanno bene. Dall'altra parte ci sono delle persone che ne fanno proprio un lavoro vero e proprio, no? Quindi cercano sempre collaborazioni nuove, eccetera, eccetera, vanno a farsi intervistare. Dal punto di vista umano mi sono trovata benissimo come ho visto anche questa cosa qua. Sì, non è un campione, come in tutti i campi professionali, le aggregazioni umane. Consiglieresti a una ragazza o a un ragazzo di mettersi e di investire in questo settore? Cioè voglio fare l'influencer, qualcuno ci prova già anche solo per gusto proprio, però è una cosa che ti sentiresti di consigliare? Allora, io dico la verità, io penso che dipende anche molto dall'età della persona, perché adesso vedendo questi social, già a 14-15 anni ci sono delle ragazzine, anche TikTok che sta spopolando, delle ragazzine che dicono io nella vita voglio fare l'influencer. Il mio consiglio, se devo darlo, è studia, capisci cosa veramente vuoi fare, poi se proprio ancora quando hai 20-25 anni vuoi diventare influencer di quella cosa lì in cui ti sei specializzata, è un conto. Però adesso vedo un po' troppo queste ragazzine che vogliono… Troppo la superficialità e l'illusione di questo. Illusione, sì, faccio due storie e guadagno. Non è una scorciatoia auspicabile e consigliabile, anche se poi può diventare un mondo professionalmente serio. Assolutamente sì. Con una sua dignità che al di là di ogni moralismo, di ogni cosa che può interessare. Assolutamente sì, sì, è così. Bene, Francesca, grazie di averci aperto un po', di averci acceso un po' la luce sul mondo social influencer. Conto che ne riparleremo perché siamo anche vicini, diciamo, di lavoro, quindi ci ritroveremo. Volentieri, molto volentieri. Grazie a te, grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento con i prossimi approfondimenti del Comizio.it. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di ilcomizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento. In più servizi e rubriche sui comuni problemi legali. Le risposte dei nostri avvocati. Un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina, eventi e stili di vita. Società e professioni. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.